Non so se vi ricordate quel film bellissimo che si chiama Ricomincio da capo con Bill Murray. Vi ricordate la scena di quando lui si sveglia? Sveglia camperisti, campeggiatori e campanari, mettetevi gli scarponi, oggi fa freddo, fa freddo, fa molto freddo qui, fa sempre freddo, non siamo mica a Miami Beach. E vi ricordate che alla furia di ripetere quella scena all'infinite volte lui si sveglia per assente la musichetta di Bob Dylan da un'ammazzata alla sveglia? Ecco, per me questo video sta diventando una situazione di questo tipo, perché doveva essere un semplice unboxing dell'ennesima numero 9, scatola di libri che mi è arrivata dall'ibraccio. L'ho girata, ma la prima volta l'ho girata e non so perché il telefono è andato in tilt e non l'ha registrato. Avevo un problema col microfono, bugia, e siccome ho comprato per quando vado in trasferta come domani o dopodomani che parto in trasferta, ho comprato questo microfonino wireless da attaccare al telefonino. L'ho attaccato, ho provato a registrare e l'ho messo qui, dove dovrebbe essere abbastanza in alto, qui. E la prima volta mi ha fatto un rimbombo pazzesco, la seconda volta ha perso i primi 10 minuti di registrazione, la terza volta non mi ricordo cosa, la seconda volta praticamente non ha registrato, la terza volta ha perso i primi 10 minuti di registrazione e ho detto va bene, farò delle prove, per adesso lasciamo perdere il Lavalier Wireless e facciamo col mio solito Yeti, visto che il Tascam mi ha mezzo abbandonato, lo Yeti e nel caso la peggio, la presa della voce diretta dal telefonino. Accontentatevi, questi sono video rustici. È la quarta volta che lo giro, so quasi a memoria quello che ho detto negli altri video, quindi sarà forse meno spontaneo, ma sono le cose che vi volevo dire. E quindi da pazzatoni nel giorno della marmotta ricomincio da capo per la quarta volta a farvi questo beneditissimo unboxing di scatole, di libri che compro dall'Ibraccio anche da Amazon e che vi faccio per la quarta volta, la scatola l'ho usata mia moglie per mettere dei giocatori della bambina che erano in terra, quindi non ho neanche più la scatola da farvi vedere, l'ho aperta, ho simulato la cosa mille volte, adesso parliamo di questi libri che ho ordinato e vi dico velocemente di cosa parlano, perché veramente non ne posso più, ma lo volevo fare perché ci tengo ad aprire con voi queste scatole, questa è una scatola virtuale di libri, a vedere cosa ho ordinato e a vedere anche gli strafalcioni che faccio certe volte, perché qualche volta ne combino, ma scusate questo cappello mi era dovuto perché veramente mi ha fatto impazzire, mi sono sentito dentro pazzatoni, potrei fare di tutto, ho la barba lunga, ho le occhiaia, non ne posso più, l'ho girato quattro giorni fa, tre giorni fa, ieri, lo sto rigirando oggi, non ce la faccio più, quindi scusatemi questa introduzione lunga, scusatemi se sono scrabionato con la barba, non importa, è un video informale, non faccio montaggio, lo sapete, quindi iniziamo subito, e il primo libro di cui vi parlo è un polillo, perché mi sono fissato con questa collana dei polillo dopo aver letti 3 o 4, mi sono reso conto che sono quasi tutti, ho gialli giganteschi, famosissimi del passato, del passato vero, del giallo classico e non solo, e quindi alcuni li prendo a scatola chiuso, alcuni titoli che mi sembrano interessanti li prendo perché i libri non si sa mai, prima poi si leggono, e questi sono dei gialli bellissimi, quindi piano piano, anche per motivi di mero collezionismo, se volete sto cercando di comprarli, non dico tutti, ma i titoli che mi ispirano di più, e uno di questi è Delitti in treno, che è chiaramente una raccolta di racconti, chiaramente che è un 300 pagine e poco più, dove sono chiaramente raccolti dei racconti, questa parola è difficissima, raccolti dei racconti, che parlano chiaramente di Delitti in treno, come dice il titolo, il più ovvio che mi sarebbe venuto in mente anche a me è l'Espresso per Plymouth di Agatha Christie, ma ce ne sono di Conan Doyle della Contessa di Orsi, altri autori che io francamente non conosco, vi dico la verità, non li conosco tutti, e poi c'è Paul Tabori, e io vi volevo dire questo, questo nome Tabori è un nome che io, non sapevo fosse uno scrittore, ma era il nome di un giocatore di scacchi, che è uno dei tre protagonisti, insieme a Hans Meyer, è uno dei tre protagonisti di La Variante di Luneburg di Paolo Maurensig, che è un libro che ho recensito qua sul canale, che è uno dei libri più belli che abbia letto in vita mia, e non ve lo dico come al solito, è un libro bellissimo, no, questo è un libro che ho letto perlomeno otto volte, è un libro fantastico, complesso, che vi ho recensito qua, di cui ho fatto un'analisi, di cui probabilmente vi ho fatto anche una parte spoiler nel finale, perché non si può capire la grandezza di questo libro senza fare spoiler, è un libro che ho nel cuore, tanto nel cuore che il racconto che vedete qua, Galey, il caso Hitler, quello con cui ho vinto, il Mistfest, non lo voglio dire ogni volta, che sarà pubblicato su Giallo Mondadori adesso a novembre, uno dei personaggi, una dell'SA, cioè delle camicie brune del mio racconto, si chiama proprio Hans Meyer, in tributo a Hans Meyer della Variante di Luneburg, è un libro che adoro quindi trovare uno scrittore che si chiama Tabori, come Tabori di quel libro, mi ha fatto questo click e vi ho parlato anche a Passan della Variante di Luneburg, che vi invito assolutamente a leggere, a rileggere, a ri-ri-ri-leggere, a leggere tutte le volte che vi viene voglia, perché è un libro fenomenale, di 150 pagine scarse, 160, una meraviglia, un noir, un giallo, un giallo storico, un libro di una bellezza indescrivibile, con una complessità narrativa, non vi voglio rifare la recensione, guardatela, cercatela sul canale, non la guardano in tanti, ma è un libro che vi straconsiglio, se non l'avete mai letto a scatola chiusa, andate adesso a comprare le librerie, leggetevelo e vi assicuro che resterete più che soddisfatti, resterete affascinati e accalappiati per sempre da questo titolo, bellissimo. Come vi ho detto, sono abbastanza stontonato e alcune volte mi capita di comprare dei doppioni, perché quando scelgo i libri da mettere nel carrello, tante volte vedo le copertine, ma non so esattamente, a volte esistono dei diversi formati che possono fregare, come per esempio un caso che a me ha veramente dato molto fastidio, è Delitto a Venezia di Agatha Christie, che non sarebbe altro che Poirot e la strage degli innocenti, che è stato repubblicato con copertina diversa, a titolo diverso dalla Mondadori, che deve ammettere, in questa situazione ha fatto un tiro veramente meschino, e lettori poco avveduti, dopo l'uscita del terzo capitolo con Poirot di Kenneth Branagh, nei panni di Poirot, Delitto a Venezia sarebbe la strage degli innocenti, Poirot e la strage degli innocenti, che è stata una carognata bestiale, l'ha comprato un sacco di gente, è un libro che esiste da 200 anni. E a me è capitato di comprare Racconti gialli, che è un libro di cui ho già fatto un video, leggendovi l'introduzione di questo volume, appunto, che è una raccolta di racconti, in cui si parla della Ellery Queen Mystery Magazine, perché questi sono dei racconti che non sono strettamente gialli o noir, ma sono dei racconti scritti da grandissimi autori, grandissimi autori, c'è Stevenson, c'è Cervantes, adesso non vi voglio fare tutto l'elenco, ma Chesterton, Jack London, Chekhov, Balzac, Dickens, Whitman, Tolstoy, Henry James, Miguel de Cervantes, cioè sono dei nomi che appartengono alla letteratura non di genere, che però hanno scritto dei racconti che questi due pazzi di Danny e Lee, cioè Ellery Queen, il duo che si nasconde dietro Ellery Queen, hanno notato che avevano degli elementi tipici, o che rientravano in qualche modo nel giallo, nella soluzione di un mistero, come lo volete dire, e il primo, appunto, Sancho Panza Detective, che è un racconto di un estratto di una pagina, di due pagine e mezzo, che è estratto chiaramente dal Don Quixote di Cervantes, che è di fatto una sorta di mini 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 giallo, uno short short giallo. Io questo l'avevo in una raccolta che dovrei avere qui in un formato più grande, ma l'ho comprato anche per un motivo, perché io adoro questi della Memoria della Sellerio e lo volevo avere, e questo è pubblicato, appunto, nel 92, la prima edizione nella collana Il Castello della Sellerio, e questo è un volume del 96, prima edizione nella collana La Memoria. Siccome io ho due scaffali, tre scaffali di Memoria della Sellerio, mi piace averli anche così, l'ho ricomprato per sbaglio, ma non è stato uno sbaglio così sgradevole, visto che sono cose che mi piace fare, da mezzo collezionista quale sono sempre stato. Vi ho parlato di un video, vi ho parlato di un romanzo bellissimo, di questa coppia di scrittori francesi che mi fanno letteralmente impazzire, e mi sto tenendo a freno perché quando trovo degli scrittori così, mi viene voglia di leggerli tutti i libri che hanno scritto, tutti uno dopo l'altro, farmi tutti i loro corpus e leggermi una cosa dopo l'altra per entrare. Non lo faccio perché qua voglio portarvi un po' una varietà di autori, di titoli, anche di generi, di libri, per cui non faccio più come facevo in passato, che quando mi piace veramente un autore in tre mesi mi leggo tutto, perché mi succede così. Però siccome vi voglio fare le analisi dei libri, vi voglio portare un po' di varietà, li ho centillinate, anche questi, come succede con Simenon. e vi sto parlando della donna che visse due volte di Boisleau e Narcè Jacques. E vi ho detto in quel video, che anche là non lo vede quasi nessuno, ma guardatelo perché Boisleau e Narcè Jacques o meglio leggetevili, perché sono due mostri totali, grandissimi, tra i noiristi più grandi, appunto della scrittura del genere noir. Noir psicologico, noir particolare, hanno fatto i polar, non mi voglio ripetere. E quel libro che ha dato vita, lo sapete, a vertigo di Hitchcock, la donna che visse due volte in italiano, con Jimmy Stewart e Kim Novak, è stato esattamente preso, quasi, io non l'ho letto questo, quindi l'ho comprato per questo motivo, ma da quello che ho capito è stato quasi un plagio, quasi una retelling, una riscrittura, di questo libro che si chiama Bruges la Morta, che è di Georges Rodenbach, che è un libro del tardo 800, non ricordo esattamente gli anni 880, 890, non mi ricordo esattamente, che è un racconto lungo, romanzo breve, di un centinaio di pagine, da cui Bolena Sejac hanno tratto uno dei loro capolavori. E siccome a me questi libri di queste dimensioni mi affascinano, e siccome io ho più una mentalità da archeologo più che da esploratore, ho pensato che mi sarebbe piaciuto leggere questo libro. L'ho comprato a prezzo intero, non usato, ma ci teneva ad averlo. E vi voglio far capire qual è questa logica che ho io, perché è chiaro che Bolena Sejac non le avrei mai scoperti se non fossi stato un esploratore del genere giallo, ma io mi piace più esplorare, più che le cose nuovissime, che leggo chiaramente, vi ripeto, un sacco di gialli moderni, gialli di autori che ho comprato per conoscere, noiristi eccetera, thrilleristi, non è che non conosco la modernità, ma cerco di portarevi quello che secondo me è veramente molto molto valido. Vi ho portato tanti contemporanei anche qua sul canale, ma a me quello che interessa è riscoprire alcuni nomi spariti dai radar del passato, di un passato neanche troppo lontano, perché Simenon è morto nell'89, Bolena Sejac è uno scritto negli anni 50-60, e quindi mi piace andare anche a ritroso e cercare le origini di alcuni libri, o di alcune in generale, della musica, dei film, di tutto funziona così, che ho amato, e cerco di trovare le fonti da cui si sono ispirati, da cui sono partiti, e in questo caso Bruce la Morta è stata l'ispirazione per Bolena Sejac, per la donna che visse due volte. Quindi l'ho comprato, solo un centinaio di pagine, lo leggerò sicuramente, c'è una marea di libri che voglio leggere, ma le letture stanno andando molto a rilento, perché io quest'estate mi son letto 12 libri e non ne ho recensito ancora nessuno, siamo a fine settembre e mi si stanno accumulando libri su libri di cui vi devo parlare, sto scrivendo come un pazzo in questo periodo perché ci sono delle cose in ballo nelle pubblicazioni future e quindi ho molto lavoro da fare, sono stanco morto perché ho accumulato stanchezze in quest'estate, in questi mesi, e quindi ho poca forza di fare questi video, e le poche forze sono dedicate in questo momento alla scrittura, ma vi sto accumulando libri o leggerei molto di più se non avessi video da fare o non avessi la scrittura a acquistare dietro. Quindi sono indietro e non leggo con tutta la forza e la frequenza che usavo prima, ma sapete, o si fanno i video, o si scrive, o si legge, così è il tempo quando si lavora, quando si hanno dei figli, quando si ha una moglie e quando si ha una vita da mandare avanti. Ma comunque di questo libro ve ne parlerò, vi farò un confronto con La donna che visse due volte, di Boalot e Narcè Jack. Ancora, vi ho parlato, non malissimo, ma vi ho detto che secondo me Van Dyne, nel caso di Mr. Green, del signor Green, è uno scrittore che ha un'importanza storica, non ha la collocazione storica, una sua importanza nella storia del giallo veramente. È stato il primo numero dei libri gialli, quando il giallo mondadori si chiamava i libri gialli. A proposito, guardatevi i video sulla storia del giallo, mi sono costato una fatica boia, sono fatti bene, ve lo dico senza falsa modestia, sono fatti bene, non trovate quasi niente qua su YouTube sulla storia del giallo mondadori che esiste da quasi 100 anni, se non una lezione, una lettura fatta a Mantova in occasione dei 90 anni della storia del giallo, quindi nel 2019, attaccato al quale poi c'è la presentazione di un libro di un giallista mantovano. Ma è compatto in un'ora, io ne ho parlato un po' più esteso, quindi se vi fa piacere, a me fa piacere sponsorizzare tra virgolette questi miei video, mi fa piacere se li condividete, perché mi sono costati su un video ben fatti, su un video divulgativi, non è una cosa che si trova molto. E comunque vi stavo dicendo, Van Dyne è un autore, uno di quei blocchi di partenza, delle fondamenta, sulle quali poi è stato costruito tutto il giallo a venire, il noir, il thriller e così via. E Van Dyne per me ha un solo unico difetto, che è quello di essere una penna, tutto sommato, scarsa, mediocre, non scarsissima, ma non una buona penna, diciamo così. Funziona benissimo come giallo puzzle, come giallo classico anglosassone, ma, o meglio, giallo classico, meglio lo volevo dire, ma non è un grande scrittore. Questo per me è abbastanza, la palissiana è abbastanza ovvio, e ve l'ho detto in quel video, ma comunque, con questa faccenda che vi ho detto che sono un archeologo più che un esploratore, ho comprato l'Enigma dell'Alfiere, che è il terzo, se non mi ricordo male, il terzo romanzo di Van Dyne, del 1928, la prima edizione, se non mi ricordo male, è anche questo, se non mi ricordo male, del 1928, ma, insomma, importa poco, uno dei tre famosissimi, la canarina assassinata, l'Enigma dell'Alfiere, e così via. Quindi l'ho comprato, perché questo di Van Dyne, lo leggerò, e probabilmente ve lo porterò, anche per cercare di riabilitare un po', la figura di Van Dyne, che, come vi ho detto, ho abbastanza maltrattato in quel video, anche se il giallo in sé è un ottimo giallo. E adesso arriviamo a questo autore, che io, ammetto, non conoscevo, e che ho conosciuto, grazie a un gruppo Facebook, di gente che di giallo ne sa, a pacchi, non molto a pacchi, che si chiama 50 sfumature di giallo, ironizzando sulle sfumature di grigio, non mi piace molto anche sta cosa qua, ed è uno scrittore austriaco, che si chiama Friedrich Glauser, o Glouser, vi faccio vedere la copertina, e in questo caso il titolo è Il grafico della febbre, che credo che sia il primo suo romanzo scritto, se non sbaglio nel 69, pubblicato per La memoria della Sellerio nel 1985, e questo è Udite Udite, una prima edizione, col numero 108 della collana della memoria della Sellerio, e questo, in quel gruppo, vi ripeto, io non posso conoscere tutti i giallisti, c'è da fare un'enciclopedia di dieci volumi degli scrittori di gialli, di tutti i tempi, bravi o meno bravi, e comunque, questo è un giallista, a quanto pare, coi fiocchi, soprattutto perché pare sia una penna eccezionale, e non è dubito, perché il libro ricade in quella solita lunghezza di 230 a 250 pagine, che per me è l'ottimo di quando uno scrive questo tipo di narrativa, quindi fuori da questo concetto del thriller americano, ci sono dei racconti che arrivano a romanzi a 300, 400 pagine, li posso accettare, alcuni di Colin Dexter, che mi sono piaciuti di più, il gioiello che era nostro, mi sembra la strada nel bosco, sono molto voluminosi, sono quasi a 400 pagine, ma ci sono le eccezioni che confermano comunque regole, e questo, è il solito romanzo di 250 pagine, pare che questo sia una penna bestiale, e quindi di Gloiser, ve ne parlerò, e se ne è parlato in questo gruppo come di un autore di gialli, che è uno di quelli che uno tira fuori quando vuole fare il super esperto, e vuole impressionare le persone con cui parla, e dice, non conosci Gloiser, è un autore fantastico, fenomenale, uno dei migliori, ma è poco letto, quindi quando vuoi fare un po' la bella figura, tiri fuori quest'autore, ripeto, non lo conoscevo, non voglio fare bella figura con voi, ma lo leggere e ve ne parlerò, perché da quello che ho capito e mi fido delle persone che ne hanno parlato, anzi andate a visitare il sito 50 sfumatori di giallo su Facebook se ci siete, insomma è un bel libro. Cyril Haar, silly hair, silly hair, non so come cavolo si legga, un autore inglese nato nel 1900 e morto, se non ricordo male, nel 1958, mio di questo autore vi ho portato un giallo nei primissimi video che ho fatto, quindi un video intanto molto breve, fatto un po' così, senza grosse analisi perché è un libro che mi era piaciuto molto e che avevo letto quasi un anno prima e che avevo fatto, portato in video per parlarvi di qualche libro per avere un po' di volume nel canale appena aperto. Ma è un giallo che è bellissimo, che ha da un certo punto di vista quel fascino che ha Gosford Park di Robert Altman di quel film, sapete, in quelle case inglesi con la servitù che mangia in cucina, con i nobili che mangiano dall'altra parte, quel tipo, c'è il gusto per il proprio la descrizione della servitù nella grande Inghilterra, nell'Inghilterra dei Lord, dei Pari, eccetera, eccetera, in una villa, se mi ricordo bene, in pieno inverno con un caso quasi da camera chiusa che va risolto e che ha un fascino bellissimo. E quindi, conoscendo questo scrittore che è una grandissima penna, sicuramente uno dei grandi nomi del giallo classico, ripeto, sono tantissimi giallisti. Io quello l'avevo comprato perché era un giallo sellerio che insieme all'Appolillo sta ripubblicando e tenendo in vita alcuni nomi di giallisti che se no sarebbero morti e sepolti almeno in Italia da tantissimo. Quindi, ripeto, non sarò mai abbastanza grato all'Appolillo che ha fatto questa serie di Bassotti, alla memoria della Sellerio che a fianco ai Camilleri, Manzini, Malvaldi, Recami e così via tira fuori nomi del passato importantissimi come ve l'ho detto Geoffrey O'Lidehall e sicuramente anche al giallo Mondadori che con i classici del giallo ripubblica dei nomi del giallo storici importantissimi anche se a volte le traduzioni sono quelle che sono degli anni passati e quindi a volte sapete rifare una traduzione costa un sacco di soldi quindi un po' ci si deve accontentare ma insomma il giallo classico il giallo Mondadori spesso tira fuori ancora dei nomi del passato e li tiene in vita cosa di cui io vi ho parlato proprio al proposito della storia del giallo Mondadori una cosa che io apprezzo moltissima anche se c'è il rischio di comprare doppioni comunque delitto al concerto di Cyril Haire non so come diavolo si legano queste pronunce inglesi mi fanno impazzire sicuramente anche questo non è tra le mie priorità però vedete la Polillo che bella carta che ha bella grossa queste sono 260 pagine sembra uno di quei romanzi da 400 pagine di quelle con la carta sottile mi piace moltissimo l'edizione Polillo con questo rosso sangue mi fanno impazzire quindi Cyril Haire non so come si lega lo leggerò e ve ne parlerò assolutamente e adesso un libro un thriller ma non pensate io vi ripeto qua io thriller all'americana avevano portati pochi perché non mi piace come sono scritti sono libri che hanno questa iper descrittività che vuole essere cinematografica che vuole essere immersiva ma per me è veramente il modo peggiore di scrivere perché vi ripeto per me la scrittura deve evocare non deve dirvi dettaglio per dettaglio cosa c'è in quella stanza vi deve evocare un ambiente un odore un clima una sensazione uno stato d'animo ma non vi deve descrivere quanti libri c'erano in ogni scaffale non lo sopporto e questo è un thriller bellissimo uno dei thriller più belli che abbia letto e vi ripeto io alle spalle ne ho molte letture di thriller di thriller americani anche se non ve ne parlo mai perché non mi piacciono ne ho tantissimi alle spalle ma non mi piacciono e questi sono veri thriller d'autore vi ho accennato a dossier odessa nei 10 gialli migliori di tutti i tempi gialli storici probabilmente questo è il giorno dello sciacallo di frederick foresight che è stato scritto se non mi ricordo male dossier odessa del 66 del 67 questo se non ricordo male del 69 è di un libro meraviglioso del 71 pubblicato nel 72 per gli oscar mondadori in questo caso non so se sia l'edizione del 72 questa è più recente di sicuro vediamo 93 bestseller oscar mondadori giugno 93 non a ristampa capite che questo è un giallo un thriller storico meraviglioso se non avete mai visto il giorno dello sciacallo io vi consiglio una cosa leggetevi i primi il libro credetemi leggetevi questo libro che vi lascerà a bocca aperta anche questo sono un 400 pagine che oggi per un vero thriller sono anche poche è una storia complessa politica c'è un sacco di cose dentro un libro bellissime ho questi libri di foresight alcuni libri di vi ripeto di thriller al limite con lo spionaggio con l'intrigo politico li ho letti moltissimi anni fa adesso li dovrei rileggere per portarveli ma vedete la quantità di libri che ho da leggere nuovi quindi un po' cerco di bilanciare nuove letture per me perché ho voglia di leggere robe nuove libri nuovi ho voglia di leggere anche libri vecchi che so che sono belli per parlarvene e per ragionarci sopra di nuovo dopo tanto tempo per vedere se sono ancora buoni oppure no questi di foresight io prima o poi vi riporterò dossier odessa e il giorno dello sciacallo vi riporterò non so quando vediamo quanto durerà questo canale non lo so cercate di supportarmi perché è una fatica ma comunque al di là di questo vedetevi anche il film meraviglioso meraviglioso con fox un film pazzesco lasciate perdere quella porcheria di remake fatto con Bruce Willis con quel camioncino con la mitragliatrice da guerra che è una cosa inguardabile guardatevi il vero giorno dello sciacallo e guardatevi anche dossier odessa sono dei libri assoluti totali non sbagliate e anche se vi siete già visti il film o vedrete il film prima del libro il libro lo leggerete con estremo piacere ve lo posso assicurare perché l'ho fatto è sapere il finale sapere tutto non vi togli una virgola della bellezza di questa cosa è come riguardare un bel film e ve l'ho detto non vi annoia perché la cosa è la bellezza non la storia che credo sia la cosa importante un libro sempre per la memoria della Selerio di un autore che amo tantissimo ho letto tutti o quasi tutti gli ho comprati praticamente tutti i libri della sua serie dell'ispettore Pepe Carvaglio e il detective gourmet creato dalla penna stratosferica meravigliosa credo che fosse una uno studioso un filologo uno studioso di testi proprio un filologo alla pari di Umberto Eco non di quel livello di quella carattura però veramente uno studioso della lingua Manuel Vasquez Montalban chiamato Manolo Montalban uno dei migliori amici letterari e non solo di Camilleri che insieme a Jean-Claude Itzoh hanno sostanzialmente creato il giallo mediterraneo Itzoh è il vero creatore del giallo mediterraneo cosiddetto perché riguarda l'ambiente la situazione all'interno del mediterraneo un po' la lingua un po' gli usi un po' i costumi un po' l'ambientazione nella struttura nell'ambiente mediterraneo Barcellona Marsiglia e Vigato se volete la Sicilia di Siracusa e di di Agrigento scusate quello di Camilleri in ogni caso questo è un libro che non vede come protagonista Pepe Carvaglio un libro molto politico io ho sempre della Sellerio assassino al comitato centrale io ho questi di Montalban quando non ce li prendo a scatola chiusa perché già il fatto di averli è una diciamo un conforto sapete un balsamo come lo volete chiamare qualcosa che mi conforta mi fa bene al cuore sapere di avere i libri di Vasquez Montalban ogni tanto quando il mood me lo prendo e me lo rileggo e prima o poi ve lo porterò perché l'assassino il centroavanti è stato assassinato verso sera in questo canale arriverà quindi il pianista di Vanelli Vasquez Montalban per la collana Sellerio la memoria questa è un'edizione credo recente ah no guarda 94 prima edizione era nel castello nel 91 questa è una prima edizione del 94 la memoria Sellerio quindi avere anche le prime edizioni non è male quindi ottimo acquisto ancora una volta e ancora un altro no un altro libro che è un libro che ho riletto proprio questa estate l'ho finito forse un mese e mezzo fa adesso il tempo sta passando un mese e mezzo o due mesi fa è un libro che fa parte di una triade di autori di scrittori italiani grandissimi bravissimi dei quali vi ho portato due elementi arriverà anche il terzo appena posso girarlo gli autori di cui vi sto parlando sono Marco Vichi col suo commissario Bordelli di cui vi ho parlato proprio col titolo omonimo il commissario Bordelli un libro meraviglioso il secondo autore Valerio Varesi che è il il creatore di Soneri le ombre di Montelupo vi ho portato di Soneri con Valerio Varesi che è un altro scrittore una penna meravigliosa riprendetevi questi due video che ho girato se volete se siete alla ricerca di scrittori italiani di vera qualità delle belle penne con delle belle storie noir gialle moderne ma quasi sempre gialli storici e con questa con questo forte forte sentore di italianità ma non tanto nelle storie o non tanto nelle figure degli investigatori quanto nel modo di scrivere nel mood che c'è in questi narratori è il terzo di questa triade per me ideale che ho letto quando viaggiavo moltissimo li avevo scaricati in i book e ho letto tutto Bordelli quasi tutto Vicky e quasi tutto questo vi dico Leonardo Gori il comissario il colonnello Bruno Arceri e in questo caso vi parlo della finale la finale è un romanzo giallo storico meraviglioso e questi personaggi li ho accumulati perché questi tre detective e questi tre scrittori devono tutto o quasi per Vicky la cosa è un po' meno evidente ma siamo lì la noce è quella devono tutto a Simenon e al suo Megret questi tre investigatori Arceri Bordelli e Soneri sono dei cloni non dei cloni degli epigoni delle ramificazioni degli eredi di Megret non c'è dubbio Soneri e come si chiama Arceri sono assolutamente dei Megret rivisti rivisitati rimasticati rimacinati ma sono quello e questo romanzo bellissimo che si ambienta nel 38 all'arrivo della finale dei mondiali del 38 quella vinto dall'Italia per la seconda volta dopo il 34 guidato dalla nazionale di come si chiamava di bah non mi viene il nome della natura adesso scusatemi con Mazzola e Piola Sandro Mazzola e Piola i due grandissimi calciatori guidati dall'allenatore scusatemi non mi viene come un cretino chiaramente siamo in Francia e siamo nel 38 era a pieno periodo fascista in pieno fascismo i francesi sapete la strana guerra di cui vi ho parlato proprio all'interno della donna che visse due volte la Francia non era ancora stata occupata c'era l'odio per il fascismo per gli italiani che erano dei fascismi maccaroni prendendo proprio il titolo tra l'altro leggetevi anche quelli di Loriano Machiavelli con Francesco Guccini che ha scritto maccaronie sono tutte delle storie bellissime anche quelli libri scritti a quattro mani capite i francesi che ci odiano perché siamo fascisti siamo in casa loro stiamo giocando la finale e stiamo vincendo abbiamo vinto contro la Francia e vinceremo la Coppa Rimè quindi capite l'odio che c'è un giallo bellissimo che tra l'altro parte è da un pretesto di arcieri che viene mandato dall'Italia alla Francia una sorta di missione segreta quindi un libro che ha il confine con lo spionaggio un romanzo di spionaggio storico potremmo dire viene mandato essendo un colonnello dei reggi carabinieri viene mandato dall'Italia di Mussolini in Francia per cercare una persona scomparsa e da lì partirà un'indagine che porterà arcieri da tutta altra parte un libro meraviglioso con un libro che si prende i suoi tempi nella narrazione con la scrittura di Leonardo Gori che è probabilmente più verbosa di quella di Simenon è più aggettivata è meno elegante per certe cose è molto più la parte psicologica che Simenon riesce a far brillare in ogni suo romanzo qua secondo me è leggermente più opaca ma stiamo paragonandolo a quello che per me al di là dei miei gusti è quello che per me è il più grande scrittore che ci siamo in stato dal punto di vista tecnico ripeto per me Simenon non teme confronto con nessun altro scrittore per quanto possa essere prosa più o meno alta più o meno complessa più o meno più o meno valida per me Simenon è non so come dire il paradigma della scrittura con l'S maiuscolo meglio di Simenon non ho mai trovato nessuno che sia stato uno scrittore tra quelli che ho letto e ce ne sono che amo di più come scrittori ma così tecnicamente perfetto non esiste come Simenon quindi Gori non è Simenon però neanche nello stile non cerca di imitare Simenon però la matrice la cellula uovo è quella quindi la finale di Leonardo Gori non perdete ma io tra l'altro ho preso questa edizione che è una riedizione per Thea che ha tra l'altro il simbolo della rosa la rosa Thea che è una sorta di casa editrice minore del gruppo del gruppo James quello del del torneo scrittore di cui vi ho parlato in quattro video se siete interessati ai tornei al torneo scrittore potete anche guardarveli cercateli sul canale questa è una riedizione una rivisitazione se ricordo bene Gori ha fatto un lavoro di modernizzazione ha fatto qualche lavoro se non ricordo male su questo testo ma non ne sono sicuro perché è l'altro la prima edizione che avevo letto l'ho letta troppi anni fa per avere una possibilità di confronto ma comunque è stato rivisto nel 2021 e questo del 2023 insomma Leonardo Gori leggetevelo ancora Friedrich Gläuser il tè delle tre vecchie signore ditemi come potevo trattenermi potevo resistere a un libro che ha un titolo così bello che puzza di giallo anglosassone classico lontano miglio scritto da un austriaco che tra l'altro vi ho detto passa per essere una penna magistrale non ho potuto fare a meno di comprarlo ne ho cercato altri di Gläuser non li ho trovati sull'ibraccio piano piano qualcun altro lo comprerò se vale la pena come penso sia indubitabile questo è del 70 scritto un anno dopo rispetto al grafico della febbre il numero 109 quindi il numero successivo nella collana la memoria della Sellerio la prima edizione era dell'85 anche questa e questa è una decima edizione del 92 Gläuser ve ne parlerò prima o poi arriverà Friedrich Gläuser ve ne dovrò parlare perché pare sia veramente uno dei giganti della letteratura gialla di altissima qualità e infine il primo graphic novel di cui vi ho parlato o meglio la prima graphic novel di cui vi ho parlato qua sul canale è Colombo di Altan e sotto il video qualcuno di voi che ringrazio ancora una volta mi ha scritto che la Coconino Press ha ripubblicato le storie di Colombo Franz cioè San Francesco Casanova con una quarta storia che è quella di Ben ovvero il quarto figlio di Noè Sam Cam Sam Megiafè e poi c'era anche Ben e questo è un libro che ho dovuto comprare a prezzo intero 25 euro non mi sembra neanche una cifra così esagerata per un libro di questa qualità che è Uomini ma straordinari di Altan che comprende appunto questa quadrilogia di biografie rivisitate riscritte ridisegnate con la maestria fenomenale di Altan io vi faccio vedere solo il disegno di questo di Colombo dove spero che vediate che ci sono le blatte sulle persone che sono sporche si grattano è un disegno ve l'ho detto in quel video se vi interessa qualcosa su Altan guardatelo perché è un video un libro un fumetto una storia meravigliosa quella che mi ricordo io l'ho letta tantissimi anni fa quando erano usciti coi fumetti di Repubblica quindi vi sto parlando di più di vent'anni fa 25 anni fa forse non ricordo più Franz mi era piaciuto forse anche di più qua c'è Casanova che non ho mai letto e infine c'è questo di Ben il quarto figlio di Noè Cam Sam Yafet e il quarto è Ben quindi grazie a chi mi ha segnalato questo libro l'ho finalmente comprato spero di portarvi anche la storia di Franz e forse anche tutto questo volume se sarà il caso non lo so vedremo ho tantissime cose da leggere vi ho detto ma questo per la qualità di Altan che vi ripeto per quanto mi riguarda è il miglior vignettista satirico italiano assieme a LK perché ha un'universalità di concetti una cattiveria ma anche una nostalgia nel modo in cui dice certe cose una disillusione fortissima LK è appena più forse appena più cattiva di Altan con quei disegni sempre li sapete LK pubblicava sull'Espresso e Altan chiaramente sul Corriere della scusate sulla Repubblica insomma su questo tipo di stampa ma per me Altan e LK sono un gradino superiori per quanto mi riguarda come tipo di satira a quella di Giannelli che fa le vignette satiriche politiche chiaramente è stato il vignettista satirico per tantissimi anni non so se lo sia ancora per il Corriere della Sera Giannelli era forse il più elegante il più intelligente il più elegante molto cattivo ma mai cattivo come questi due con un'eleganza di tratto e anche una sagaccia una sottigliezza di alcune battute che era veramente eccezionale il più elegante il quarto della tetrade che mi viene in mente sarà per motivi enagrafici sarà per le mie letture di quotidiani in riviste non lo so è Forattini che per me resta un passo indietro degli altri tre che era cattivo era molto divertente faceva fare un po' la risata grassa ma era un po' più scontato un po' più ovvio un po' più prevedibile anche se Forattini ha delle vignette meravigliose storiche per carità di Dio non voglio sminire però di questi quattro per me è quello che resta una virgola indietro per cui quarta volta che giro questo video non mi è basta più la voce mi sono tenuto l'acqua perché veramente c'è voluta pazienza per girare quattro volte questo video ma vi volevo parlare di questa carrellata di libri che ho comprato per aprire è stata tradizione ormai da nove da nove acquisti che ho fatto da un po' di tempo a questa parte quindi ho voluto parlarvene ma non è ancora finita perché c'è una sorpresa aspettate e questo è un palco che mi è arrivato se è quello che penso vi faccio vedere in diretta che cos'è vediamo se non è quello che penso chiudiamo il video qua ma se è quello che penso ve lo faccio vedere così avremo anche questo insieme esattamente questo è un libro che non ho trovato sull'ibraccio è un libro che ho cercato che ho aspettato l'ho ordinato qua sull'ibraccio un paio di volte non sono riuscito ad averlo perché sempre mi diceva esaurito esaurito finito non si trovava e questo è per quanto mi riguarda l'ho purtroppo perché non ho avuto la possibilità di leggerlo veramente come si deve perché avevo un livello di stanchezza stavo facendo un viaggio lungo e mi sono messo ad ascoltarlo poi mi sono reso conto che ascoltarlo per quanto uno possa prestare attenzione non è in nessun modo paragonabile a leggere un titolo così quindi l'ho lasciato neanche un terzo un quarto un quinto di lettura di audiolibro e ho deciso di trovare il momento in cui leggerlo e parlarvene perché questo è il re probabilmente di tutti i gialli che sono mai stati scritti per qualità letteraria per importanza storica all'interno della storia non solo della letteratura italiana perché questo fa parte della letteratura italiana e ve lo farò leggere ve ne parlerò approfondendo come si deve perché si deve a un autore così questo è uno dei gialli più incredibili che non hanno un finale quindi un giallo senza il finale è quasi una bestemmia in chiesa ed è quel pasticciaccio brutto di via merulana di Emilio Gadda di Carlo Emilio Gadda in questa edizione che io ricordo che abbiamo sicuramente a casa di mia madre che ho voluto comprare in questa edizione che tra l'altro ha una copertina molto bella secondo me con una bella prefazione di Piero Citati che credo che sia quella più importante più sfruttata più vista più studiata almeno all'interno di queste pubblicazioni libri poi c'erano studi su studi su Gadda e mi ricordo perché questa edizione ce l'aveva sul comodino mio padre che cercava di leggerlo quando purtroppo stava male credo che non l'abbia mai finito di leggere perché quando uno ha quella stanchezza lì data dalla malattia e si deve mettere a leggere Gadda che scrive usando romanesco i dialetti di tutta Italia su cui ha fatto uno studio pazzesco per leggere un libro che ha implica neologismi parole onomatopeiche parole che non esistono parole dialettali è chiaro che la testa quando non c'è è difficile ma è un giallo è un libro meglio perché un giallo che ha un'importanza storica gigantesca già solo l'incipit le primissime righe di questo capolavoro qua ragazzi potete dire che vi fa schifo potete dire che non riuscite a leggere che Gadda è leggibile potete dire quello che volete ma questo al di là della vostra o dell'altrui opinione questo è ripeto non è una mia opinione ma questo è un capolavoro totale assoluto della letteratura mondiale e come ha detto Barico noi italiani solo noi italiani abbiamo la fortuna e il privilegio di poter leggere Carlo Emilio Gadda non in traduzione e questa è una verità perché la prima pagina di questo libro l'introduzione di Don Ciccio in gravallo è qualcosa che mette la pelle d'oca chiunque anche solo avvicini la penna al foglio per provare a scrivere è qualcosa di inarrivabile quindi io prima o poi prima o poi ho dei libri molto pesanti di cui vi devo parlare su cui mi devo documentare su cui mi metto a ragionare in modo cervellotico a volte troppo e diventano delle cose dove io mi devo frenare perché non si può fare un video di due ore per parlarvi di un libro ma vi dovrò parlare del Maestro e Margherita vi dovrò parlare di Cuore di Tenebra e vi dovrò parlare prima o poi del pasticciaccio brutto di via Merulana di Gadda perché questi sono tre libri cardine questo è un libro che mi sto coccolando mi sto leggendo ogni tanto mi prendevo io ce l'ho in ebook ogni tanto mi prendo delle pagine lo leggo lo studio cerco di capite di gustarmi a volte anche senza tutta la storia di rigustarmi certe pagine che ho letto e ho giocchiato così ma tutto il libro non l'ho mai letto so chiaramente tutta la storia chi si occupa di Gialli la storia la sa sa tutto di Gadda del pasticciaccio ho ascoltato dei video ho letto delle critiche quindi insomma è Gadda diciamo questo però il libro ancora non l'ho letto e quando lo leggerò ve ne parlerò e l'ho voluto in questa bella edizione che ho trovato costava 12 euro ai tempi di elefanti della Garzanti questa vediamo che edizione compiero citati questa è nel 2011 è stata pubblicata nel 2011 e insomma volevo questa edizione volevo questa edizione l'ho trovata mi piace avere questa anche per un motivo vi ripeto affettivo che mi ricorda qualcosa di di personale e adesso ce l'ho ce l'ho in libreria ero convinto di averlo già comprato non ce l'avevo per cui adesso ce l'ho e prima o poi arriverà anche Gadda grazie per essere arrivati con me fino alla fine di questo video interminabile per me che l'ho girato ma che è durato quanto forse mezz'ora per voi che l'avete guardato rinnovo questa sorta di tradizione che ho preso di aprire gli acquisti librari che faccio purtroppo quasi sempre online di vederli con voi perché li ho apro talmente tardi questo l'ho aperto più di due settimane dall'ordine li ho apro talmente tardi che mi dimentico cosa ho ordinato e quindi anche per me è una sorpresa a riscoprire quali erano i libri che avevo ordinato e quali i libri che avevo scelto di comprare in mezzo alla enorme quantità di libri che vorrei leggere grazie per avermi seguito ci vediamo col prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.